Un saluto dal vostro Danilo e bentornati sul canale. Oggi vi propongo un confronto fra due telefoni che ho avuto la possibilità di provare alternativamente in queste due settimane, il Mi Note 10 Lite e il Mi Note 10. Dal punto di vista tecnico condivido la stessa piattaforma perché hanno il 730G entrambi, il Mi Note 10 Lite l'ho preso nella versione 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna non espandibile, mentre lo standard è in versione 628 non espandibile. Dal punto di vista fotografico cambiano alcune cose che poi andremo a scoprire insieme nel dettaglio, però devo dirvi già in partenza che il Mi Note 10 Lite non ha niente di Lite, mi ha stupito parecchio e poi nelle conclusioni finali trarremo il bilancio di questi due telefoni. Adesso sigla e poi andiamo a scoprirli insieme. Eccoci qui con questo confrontone per quanto riguarda Mi Note 10 e Mi Note 10 Lite. Come vi ho detto all'inizio i telefoni condividono la stessa piattaforma hardware, hanno entrambi lo Snapdragon 730G, l'Adreno 618, cambia il taglio di memoria perché il Mi Note 10 Lite l'ho preso con 64 GB, mentre invece il Mi Note 10 standard l'ho preso con 128 GB di storage interno. Per quanto riguarda le differenze, diciamo che sostanzialmente hanno il peso, perché il Mi Note 10 normale pesa 208 grammi e il Mi Note 10 Lite pesa 204 grammi. A livello pratico io noto una certa differenza, può sembrare strano perché uno potrebbe dire 4 grammi, cosa vuoi che sia, invece dal punto di vista della maneggevolezza e soprattutto dell'agilità nell'utilizzo si sentono eccome. anche perché nel Mi Note 10 Lite si può usare la custodia in dotazione, che comunque è molto leggera ed è trasparente, perché comunque con questo colore fantastico è necessario che sia trasparente. Mentre per quanto riguarda il Mi Note 10 standard, purtroppo come vedete, avendo lo scalino qui delle fotocamere, è necessario acquistare o comunque utilizzare la custodia presente nella confezione che è veramente brutta, perché comunque è nera e non permette di far vedere questo colore che pur essendo scuro è veramente bello e ho dovuto comprare questa custodia rugged che mi permette di non graffiare le fotocamere. Dal punto di vista estetico non cambia granché, hanno entrambi un display AMOLED da 6,47 pollici full HD+, con la stessa curvatura, praticamente i telefoni sono identici da questo punto di vista. Lo sblocco dell'impronte, io ho notato che un pochettino è più veloce il Mi Note 10 Lite, lo prende più spesso, mentre diciamo che il Mi Note 10 standard siamo sulle 8 volte su 10, mentre invece il Mi Note 10 Lite sono 9 volte su 10, molte volte anche 10 su 10, dipende, però siamo comunque molto più avvantaggiati. Un'altra cosa che vi voglio segnalare è la durata della batteria, hanno entrambi un'unità da 5.260 mAh, però durante il mio utilizzo ho notato che il Mi Note 10 Lite, non chiedetemi per quale motivo, perché sono stati configurati nella stessa maniera e l'utilizzo è lo stesso e con le stesse applicazioni, ha un 5% in più di durata, che diciamo a fine giornata può essere comodo. L'autonomia è veramente incredibile perché comunque si arriva a sera con oltre il 35% o 30% di batteria, quindi un 5% in più vuol dire che siamo sui 35-40% di batteria con un uso medio anche stressante. La differenza vera che c'è fra questi due telefoni è nel comparto fotografico. Innanzitutto per quanto riguarda, come vi ho detto all'inizio, il design. Nel Mi Note 10 Lite hanno risolto il problema dello scalino e le fotocamere sono praticamente a filo. Certo, c'è da dire che perde due fotocamere rispetto al Mi Note 10 normale. Perde la fotocamera zoom da 5x ottica e la fotocamera zoom da 2x, perché nel Mi Note 10 Lite è uno zoom, diciamo, ibrido. Un'altra differenza sul comparto fotografico sta nella fotocamera principale, perché mentre nel Mi Note 10 è da 108 megapixel, nel Mi Note 10 Lite è da 64. C'è anche da segnalarvi una differenza sostanziale di hardware, perché ci sono due sensori diversi. Il Mi Note 10 Lite ha un sensore Sony IMX686, mentre il Mi Note 10 normale ha un Samsung HMX. E vi posso dire che nelle fotografie la differenza è veramente sostanziale. Davanti abbiamo una fotocamera nel display, non so se la fotocamera riesce a cogliere il gotch. Nel Mi Note 10 standard è da 32 megapixel, scusate, mentre invece nel Mi Note 10 Lite è da 16 megapixel. entrambi registrano video in full HD a 30 fps, mentre invece le fotocamere principali posteriori registrano le fotocamere in 4K a 30 fps. Un'altra cosa che vi devo dire è la stabilizzazione. Nel Mi Note 10 standard c'è la stabilizzazione ottica, mentre invece nel Mi Note 10 Lite c'è solo una stabilizzazione digitale. Adesso vi lascio una piccola galleria e poi dopo le commentiamo insieme. Per quanto riguarda le fotografie, secondo me la differenza di sensore montato su questi due telefoni si vede. Il Mi Note 10 Lite è sicuramente più votato alla fotografia. Questo sensore Sony tira fuori degli scatti molto belli, sia dal punto di vista del dettaglio che della messa a fuoco. Mentre invece il sensore Samsung montato sul Mi Note 10 standard è più votato al video, infatti tira fuori dei video interessanti, soprattutto avendo anche la stabilizzazione ottica. Certo, anche il Sony tira fuori dei video veramente interessanti, però per poter avere una stabilizzazione molto migliore bisogna ad esempio ricorrere all'uso di un gimbal. Allora a quel punto si risolve questo problema. Una cosa che vi devo segnalare è che durante l'utilizzo delle fotocamere il telefono diventa molto bollente, si surriscalda parecchio su entrambi e diventa quasi fastidioso l'utilizzo. I prezzi adesso su Amazon sono io l'ho preso 380 euro nella colorazione nera, mentre invece la colorazione verde acqua era intorno ai 420. Il Mi Note 10 Lite nella colorazione viola io l'ho pagato 282 euro, mentre adesso si trova intorno ai 299-310. Ovviamente sono i pezzi al momento della recensione. Se ci sarà qualche variazione ve lo farò sapere qui nei commenti. Che dire, sono ottimi telefoni entrambi, dipende da cosa volete fare. Se avete una spiccata attitudine a creazione di video, sicuramente il Mi Note 10 standard è il vostro telefono, perché con la stabilizzazione ottica tirerete fuori dei lavori veramente interessanti. Se siete più votati alla fotografia, e per fotografia intendo non solo social Instagram e Facebook, ma anche magari delle fotografie, ricordo, delle stampe, sicuramente il Mi Note 10 Lite vi viene incontro e avrete sicuramente un telefono molto performante. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un like, continuate a seguirci, condividete il canale e fate iscrivere amici, parenti e conoscenti. Abbiamo due pagine, una Facebook dove pubblichiamo offerte a Amazon e news, una pagina Instagram dove pubblichiamo diciamo quello che facciamo e soprattutto che telefoni abbiamo in prova in questo momento. Abbiamo anche un canale Telegram dove lo stesso pubblichiamo news e offerte e soprattutto siamo affiliati Amazon, quindi se volete acquistare e aiutarci a crescere, richiedeteci il link per i vostri prodotti. Ci vediamo al prossimo video e vi saluto. Ciao!